Cresce l'attesa per la sfida tra Sidiga Savellino ed Emporio Armani Milano, l'ultimo quarto di finale alle ore 20.30 al Pala Banco d'Eso. Sarà il rematch della sfida di lunedì sera in campionato, programma delle Final 8 di Coppa Italia che avrà inizio alle ore 13 con la sfida tra Umana Venezia ed Enel Brindisi. Prima di arrivare al Pala d'Eso la Dolomiti Energia Trento, giunta nella struttura Brianzola per una sessione di tiro. Micel e compagni affronteranno la Grissinbon Reggio Emilia alle 18 dopo la sfida tra i campioni in carica del Banco di Sardegna Sassari e l'Avanoli Cremona di Cocce Pancotto. Avellino e Milano chiuderanno alle 20.30 il programma dei quarti di finale. Il team di Vitucci ha svolto un briefing in mattinata per sviluppare gli ultimi dettagli in vista del match contro i campioni d'Italia. La Sidiga si scendereà in campo con una maglia celebrativa a strisce verde e nera per il ritorno nel tabellone della Coppa Nazionale. Si riparte dall'1-1 maturato in campionato e dal 2-0 in favore di Avellino nei quarti di finale di Coppa Italia. Un record che i Lupi sperano di mantenere aperto. Per farlo la Scandone dovrà rassentare la perfezione con un'intensità massima per tutti i 40 minuti.